State 2022 da record per quanto riguarda il grande caldo su tutta l'Europa meridionale, anche in questo weekend ritroveremo un ruggito dall'alta pressione africana su molti degli stati europei, soprattutto tra la Francia, l'Italia, la Spagna, con temperature su molte aree oltre i 36 gradi. Andiamo al dettaglio del nord Italia, questo weekend temperature da bollino rosso, valori bollenti al nord, punte di 35-36 gradi diffusamente sulla Toscana, anche i 38 gradi, ma comunque gran parte del centro Italia vedrà valori elevati, eccezionalmente elevati, una continua fase di caldo che praticamente va avanti dai primi di maggio. Valori un pochettino meno alti al sud, ma comunque sempre oltre le medie stagionali nei prossimi giorni, perché anche la prossima settimana ritroveremo l'alta pressione africana dappertutto. Dettagli maggiori vi trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.